È stata una partita un po' particolare come sta capitando ultimamente, siamo partiti abbastanza bene nei primi venti minuti, poi purtroppo un errore che abbiamo commesso ha portato in vantaggio il Como e quasi subito è arrivato anche il raddoppio e poi abbiamo fatto fatica a riprenderci. Anche i gol che abbiamo preso nel secondo tempo, abbiamo preso per delle più attenzioni perché il terzo scopo, un'azione nostra, una calcia di punizione, abbiamo preso un contropiede, abbiamo preso il terzo gol e poi abbiamo fatto il quarto e purtroppo non c'è stato più niente da fare. Mi dispiace, chiediamo scusa ai tifosi perché purtroppo adesso non stiamo giocando dal Binoleffe, lavoreremo per cercare di riprenderci. Li ringrazio per il tifo che non hanno mai fatto mancare anche oggi, nonostante il risultato negativo dall'inizio alla fine e speriamo la prossima partita di regalare una gioia e una bella vittoria.